Sempre cerchiamo di fare da facilitatori, da agevolatori del rapporto tra la città e le sue varie parti, l'università poi ci fa particolarmente piacere farlo, collegandola con invece le compagnieri che volano su Napoli. Quindi Meridiana è uno dei partner principali del nostro aeroporto, offre tantissime destinazioni e offre la destinazione quella più accattivante, la New York che è quella più interessante penso soprattutto per i giovani. Ricordo da ragazzo quando ero studente a questa stessa università, per me era un sogno l'idea di andare a New York, quindi poterci andare ad un prezzo conveniente, velocissimamente, perché in otto ore se è in New York, che è una grande mela, spero che stiamo offrendo una buona opportunità ai giovani e che tra l'altro quest'anno hanno a loro disposizione in aeroporto ben 70 collegamenti, quest'anno facciamo il record dei collegamenti, sono 70 e molti di questi sono secondo me attrattivi per gli studenti e per i giovani, sia per svago che per cultura, quindi ormai quasi tutte le capitali europee sono collegate. Faccio un esempio, Amsterdam è collegata da tre compagnie diverse, Londra da quattro compagnie diverse, quindi c'è anche più offerta, ci sono più voli al giorno.